Nel giorno del suo compleanno sono riprese le ricerche di Mimì Manzo, l'operaio di Prata, scomparso da oltre un anno. Le ricerche si sono concentrate tra la stazione e la Basilica dell'Annunziata. Nel corso delle operazioni lungo i binari è stata ritrovata prima una scarpa e poi degli indumenti. Il materiale è stato sequestrato e repertato e nei prossimi giorni sarà analizzato. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, reparto forestale di Vigili del Fuoco. Sul posto anche le sorelle e il fratello di Mimì con la figlia e l'avvocato di quest'ultima. Sono stati proprio i familiari di Mimì a chiedere con insistenza di riattivare le ricerche dell'uomo che sono riprese in due punti precisi e poco distanti l'uno dall'altro. Pure che non si capirà almeno di trovarlo perché quando uno muore vai al cimitero così sta da impazzire solamente e poi soprattutto che oggi si è trovata proprio il giorno del suo compleanno. È ancora più triste per noi, come ben sapete voi tutti, di capire se si riuscirà a capire il perché doveva succedere questo. Da una passeggiata, da una cosa sua personale che si è voluta andare a fare questa passeggiata non c'era nulla di male. Ha incontrato delle brutte bestie penso io per la strada. Lucia questo che stiamo vedendo oggi sta avvenendo grazie alla tua, alla vostra testardaggine perché nel corso di questi mesi voi non vi siete mai rassegnati. Perché ricominciano da qui perché questi sono i posti che lui è entrato e non è uscito, a quanto ne so. Poi se le lingue rendono qualcosa di più, a me è un piacere, un piacerissimo. È stata ritrovata, sembra una scarpa e anche qualche indumento, non so se a voi è stato mostrato. No, non è stato mostrato perché sono arrivata dopo, però si dovrà vedere. La ripresa delle ricerche è dovuta soprattutto all'insistenza dei familiari o la procura è realmente in mano qualcosa, magari dalle famose intercettazioni, gli ultimi interrogatori è uscito dell'altro. Posso dire che negli ultimi mesi si è battuta una pista in particolare. Hanno di nuovo visionato delle telecamere che magari inizialmente non erano state attenzionate in maniera così precisa. Che mostrano avvocato questo telecamere? Dei movimenti, soprattutto nei minuti della scomparsa, dei movimenti che per loro sono sospetti e che comunque ovviamente vanno chiariti. Ovviamente parliamo di movimenti che non riguardano Mimì o meglio non riguardano solo Mimì? No, infatti non riguardano Mimì ma riguardano macchine e persone.